Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto che ha coinvolto gli studenti del corso triennale in design dell'anno accademico 2017-2018. Gli studenti sono stati poi supervisionati dal docente Architetto Laura Biancalana e al termine del percorso progettuale sono stati selezionati da un panel di professionisti due lavori. Questi lavori sono stati poi realizzati con dei prototipi. I prototipi saranno poi presentati ed esposti sia in Umbria che durante la Design Week di Milano. Quando ho iniziato la progettazione di Mater ho preso ispirazione dalla natura, in particolar modo dall'istinto materno. Ciò che rende speciale Mater è la possibilità di essere inserita in qualsiasi tipologia di terreno o ambiente grazie alla versatilità della sua struttura, composta da semplici moduli che possono variare di forme e dimensioni in base alle esigenze. La divisione di livelli permette di avere nella parte superiore un giardino sospeso che ripara dagli agenti atmosferici. La zona centrale accoglie gli insetti e la parte inferiore tiene sopraelevata la struttura. Tutti i componenti di Mater sono facilmente ricavabili da un singolo foglio di materiale. Questa caratteristica è fondamentale per l'ecosostenibilità del progetto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!